ragazzi il video della macchina di santa rosa alessandro raccontaci che cosa è questa ammazza quanto è grande noi vediamo da qui sotto vedete quelli sono tutti i numeri di dove si mette ogni facchino ogni facchino c'ha il suo numero ok adesso è appoggiata ci hanno i numeri vedi i numeri ogni facchino è numerato facchino numero uno è come dov'è in basso non li vedi i numeri facchino numero tre quarta fila prima fila facchino è numerato a file vedete queste sono le file e poi ogni facchino è numerato la vediamo tutta bianca forse troppo bianca magari c'è quella qualche sfumatura per far apprezzare meglio magari qualche chiaro scuro sulle statue per dà un po più di profondità molto bella ma la profondità sa che gliela dà la luce penso che le luci ci sono un sacco delle luci dovrebbero creare delle ombre che di notte si apprezza più che di giorno e qui stiamo a fianco alla chiesa grazie aspetta aspetta